Ci troviamo a Sonnino, in provincia di Latina, presso il podere biologico L'Uliva, di Paola Ghione che sono io e Mauro Morbidelli che è mio marito. Eravamo degli storici, abbiamo deciso di cambiare vita, tornare alla campagna e coltivare olivi e produrre olio biologico. Grazie al PSR del Lazio siamo riusciti a ripristinare un oliveto che era abbandonato da decenni, ricostruendo i moretti a secco che sono il primo presidio contro il dissesto idrogeologico. È un'operazione fondamentale che non potevamo permetterci perché abbiamo un'equilibria di sossistenza e i finanziamenti pubblici sono fondamentali per sostenere un'agricoltura solidale, un'agricoltura biologica, un'agricoltura sostenibile. Per noi vivere in campagna, in queste montagne meravigliose, è una forma anche di resistenza e di lotta. Noi crediamo in un'agricoltura che rispetti la natura, che tuteli l'ambiente, che garantisca sovranità e qualità alimentare. Abbiamo infatti sostenuto la nascita del biodistretto delle colline della Maseno, che è uno dei primi biodistretti a nascere nel Lazio. Nei prossimi decenni abbiamo il progetto di restaurare i restanti due ettari di uliveto, moretti a secco, e soprattutto creare dei nuovi bacini di raccolta d'acqua piovana e restaurare le antiche cisterne, perché la siccità è uno degli elementi del cambiamento climatico che in questo territorio si sta già facendo sentire molto duramente. Inoltre ci piacerebbe impiantare dei nuovi alberi, dei melograni, degli agrumi, per poter implementare la biodiversità di questa terra. Grazie a tutti!